Rosa, la facemmo la fotografia? La facemmo, Rosa? Buona sola, vai! Ciao, Annunz, come sei? O se è benedica, Don Mariano? Oh, Don Mariano, non accomodatemi, tanto io posso aspettare, non ne ho premura. Salute, Don Mariano. Salute. Ecco, leggiamo qualche brutta notizia. Mi pare che cercano a voi. Cosa è? Don Mariano, vorrei parlare con voi, se non vi dispiace. E tu che sei? Sono la moglie di Nicolosi, non vi ricordate? Rosa, per favore, abbiamo tanto da fare. Scusate, posso parlarvi da solo? Da solo? E qua non si può. Stasera, quando tu sei sola, io ti faccio una visita. Figlia mia, tu mi provo che ti devo dire. Oppure se cos'è gente parla? Parla, siamo già amici. Ho saputo che mio marito è a Palermo. Stamattina mi venne a dire uno. Uno che ha motocicletta. Ah, a Palermo. Bene. Bella città, beato lui. Ma è veramente a Palermo. E a Palermo è qua, sotto le scarpe. E dove si trova tuo marito, tu insiste a domandare a me. Ma che sognuto compare? No, no, non sei tu mai compare. Io non naio compare. Non m'aglio a vergognare di niente io. Pare che a Palermo hanno scoperto una casa tutta piena di ragazze, di quelle. Dalla cantina fino all'ultimo piano, bello no? Bisognerebbe farlo anche qui. Ma si trova la materia prima? Sì, c'è il Madroiano, è comodo. Che fa? Se pensa è comodo. Nessuno ti ha interrogato a te.